sì. Buonasera a tutti, buonasera da Guglielmo Poli, da Reconnective Academy International, benvenuti a questa masterclass in italiano questa volta, ritrova a te stesso e datti il giusto valore di Reconnective Healing. Per chi non mi conoscesse mi chiamo Guglielmo Poli, sono il direttore di Reconnective Academy International, che è l'istituto di formazione che è unico al mondo alla licenza del dottore Rick Perle per insegnare in tutto il mondo Reconnective Healing e The Reconnection e vedremo che cosa sono durante l'arco della serata. Sono da 16 anni che mi occupo di questo, prima sostanzialmente per un motivo prettamente personale, poi siccome ho visto effettivamente gli effetti su me stesso e su chi era nella mia cerca familiare, di amici, eccetera, mi sono interessato sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a che non sono diventato direttore di quella cosa che mi interessava sempre di più. Questo anche per darvi un pochino il senso di che potenza abbia questo strumento. Con me Emanuela, che per chi non lo sapesse è mia madre. Abbiamo svelato il segreto subito, le volte li facciamo aspettare di più. Anche lei operatrice, istruttrice di Reconnective Healing, proprio perché si vede che in famiglia ci è piaciuto. Sì, davvero. Innanzitutto saluto tutti quelli che conosco e do il benvenuto a tutti quelli che non conosco. Benvenuti, è un piacere conoscervi. Io sono Emanuela, Emanuela Pastore Stocchi e sono un'istruttura internazionale, faccio parte del board di Reconnective Academy International. Quindi sono la mamma di Guglielmo. Poverina, direi, però vabbè. Dobbiamo capire chi poverino è di più. Sono un avvocato. Magari più tardi, dipende come va questa call, vi racconterò un pochino anche della mia storia, come da avvocato, e comunque sono ancora, mi trovo qui a parlare di Reconnective Healing con voi e con tanto piacere davvero. Cominciamo subito ad andare a osservare quello che è il titolo di questa masterclass. Ritrova a te stesso i dati il giusto valore. È comune, direi quasi matematico, avere un'immagine, un'idea di noi, distorta o un'immagine di noi totalmente mentale. A chi lasciamo il diritto di farci dire chi siamo noi? E lo lasciamo molte volte all'esterno. Lo lasciamo a istituzioni, lo lasciamo a persone, lo lasciamo a situazioni, lo lasciamo a stereotipi. Quindi sostanzialmente l'idea che abbiamo di noi stessi deriva sostanzialmente da un bilancio che facciamo tra quello che sentiamo dentro di noi e quelli che sono dei canoni e dei criteri che in realtà poi sono totalmente esterni a noi. Chi ci dice però che quei canoni, quelle idee, quelle tradizioni, che quelle religioni, anche quei precetti, anche quelle leggi, siano corrette o meglio, siano funzionali alla nostra esistenza, siano funzionali alla nostra essenza. A livello pratico non ce lo dice nessuno. Ce lo dice a volte il fatto che, seguendo determinati canoni, diciamo, assecondiamo la natura, assecondiamo un determinato piacere che abbiamo in noi stessi, assecondiamo la nostra salute, assecondiamo, diciamo, le nostre più profonde pulsioni, però non è detto che questa immagine che abbiamo di noi sia il riflesso corretto di chi siamo veramente. Dall'altro punto di vista, in continuazione non ci faranno mai mancare dall'esterno giudizi, giudizi di ogni genere, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista dell'efficacia nel mondo. Ah, non sai fare niente, o meglio, non sai fare quello che serve sostanzialmente ad alcuni generi di società. E quindi il nostro essere diventa in maniera assolutamente, diciamo, incalcolabile, vittima di schemi che sono totalmente al di fuori di noi. Questo è per tutti. Ovviamente come si cambia società, ovviamente come si cambia zona, ovviamente come si cambia gruppo di persone, gruppo dei pari, ogni volta che noi cambiamo posto, istituzione, cambiano anche i criteri e quindi diventiamo o improvvisamente ottimi o improvvisamente delle schiappe in tutto. È assolutamente qualcosa di falso, di non vero, di costruito. E quindi la domanda che dovremmo farci dal punto di vista pratico, dal punto di vista reale, dal punto di vista proprio fattuale è chi siamo noi? Chi siamo noi? perché è impossibile sostanzialmente giudicare chi siamo noi se non siamo in grado innanzitutto di comprendere la nostra essenza. E quindi ci iniziano sostanzialmente ad aiutarci in questo tutte le materie dal punto di vista spirituale. Ci sono tantissime versioni di come l'uomo ha immaginato se stesso al di fuori della carne, al di fuori della materia, al di fuori della dualità. Quindi immaginarsi un essere probabilmente con tutte le possibilità di un essere spirituale, ma ecco che anche lì entrano in gioco diversi sistemi legati alla paura, che sostanzialmente è la paura della morte quasi sempre. Legati alla disciplina, no? Se farai queste dieci cose allora sei un'anima pura, se non farai quelle dieci cose allora andrà all'inferno. È abbastanza limitante come visione. Quello che io diciamo dalla mia esperienza che è anche piuttosto intensa e lunga perché ho cominciato a leggere i libri sacri di tutte le religioni quando avevo quattordici anni. La mamma dice di sicura perché conferma la malattia mentale profonda di dover fare questa cosa, ma il mio problema è che io non credevo, o meglio non è che non credevo, non mi tornava quello che il caro sacerdote diceva in chiesa e quindi ho detto sai cosa c'è? Adesso vado a leggermi quello che mi diceva. Non ho trovato però quello che cercavo onestamente e quindi ho proseguito da tanti anni e mi sono convinto di una cosa e mi sono convinto di una cosa con per me assoluta certezza. Ovviamente è lontanissimo da me darvi delle verità perché mi fanno paura quelli che dicono le verità perché molto spesso c'è una bella fregatura dietro volerti insegnare una verità. Per cui io sono qui semplicemente a proporre una visione che poi coincida o meno con quella che è la vostra visione personale o semplicemente possa essere un atto di riflessione. Io sono contento ecco di averlo generato in voi e io sono convinto di questo. Noi tutti siamo frammenti dell'universo, cioè l'universo si comporta come un enorme organismo. Sappiamo perché lo viviamo costantemente ed ogni giorno, viviamo secondo regole di dualità o meglio io credo e penso di essere diverso, di essere un altro rispetto a Mario Rosa, rispetto a Patrizia, rispetto a Giovanna, rispetto a Emanuela. Io penso di essere un altro e quindi questa dualità mi porta a identificarmi come individuo. Viviamo nella tridimensionalità finché siamo carne, pelle, sangue e ossa è qui che ci tocca stare e quindi siamo esseri tridimensionali. Siamo esseri che viviamo sotto le regole dello spazio e del tempo in maniera chiara. Io ho fatto un susseguirsi di lunghe azioni di lavoro, per esempio oggi da stamattina a stasera, nonostante il caldo, nonostante tutto, devo dire con un pochino più fatica del solito, però mi rendo conto di aver scansionato, dato una cadenza alle mie azioni oggi, quindi ho osservato il tempo e sicuramente mi sono mosso nella tridimensionalità, quindi ho osservato lo spazio. Cosa rimane quando noi in realtà comprendiamo che tutto questo, che è la tridimensionalità e la dualità, in realtà è illusorio, è un'illusione? Lo so che l'avete già sentito tante volte questo discorso, no? La dualità è un'illusione, tutti siamo uno e tutti dicono tutti siamo uno, soprattutto nel mondo olistico, volemose bene, no? Tutti siamo uno e però intanto non agiamo come se fossimo uno e anzi continuiamo a giudicare la persona che è davanti a noi, continuiamo a giudicare noi stessi ed è proprio questo che è la prima parte sostanzialmente del titolo di oggi, no? Ritrova te stesso. Perché devi ritrovare te stesso per poi darti il giusto valore? Perché se non sai chi sei è difficile capire sotto quali criteri tu possa dire ok sto facendo bene, sto facendo male nella mia vita, ok il mio valore x, y o z, perché se tu non sai chi sei cadrai automaticamente in balia o della mente autogiudicante pregna degli schemi sociali di cui siamo purtroppo veramente condizionati in continuazione oppure saremo persi, saremo persi nella inesistenza che è più o meno quello che sta succedendo alle nuove generazioni, generazioni che sono allontanate sempre di più dalla ricerca di loro stessi ma sono volentieri spinte a uno stereotipo o a un comportamento semplicemente automatico, automatizzato quasi da robot ed è molto evidente, io sono dell'ultima generazione che è nata senza internet, ok? Quindi io ancora quando c'era da incontrarsi con i miei amici, vivo a Roma, io sapevo che la domenica ci si incontrava in quella piazza a quell'ora e poi si decideva cosa fare e non c'erano i cellulari, non c'era niente, cioè si viveva e si viveva bene lo stesso, poi cosa mai non si faceva niente, si rimaneva lì a chiacchierare o si andava a prendere un pezzo di pizza al taglio all'angolo, però era diciamo qualcosa di molto molto meno automatizzato, noi sapevamo che lì c'era diciamo il punto d'incontro e poi tutto veniva da sé, non si calendarizzava, non si metteva sul calendario di google, ci vediamo, facciamo il gruppo di whatsapp, ci vediamo, ah no ma non ci vediamo, poi di discussioni infinite, poi esattamente come noi che non facevamo niente, neanche loro fanno niente, però più che altro rimangono ognuno a casa sua a fare whatsapp nel mentre, no? Fanno anche qualche giochino del cellulare, cosa che faccio anch'io nei momenti in cui voglio distrarre la mente. Chi siamo allora? Immaginiamo che sia vero il discorso che tutti siamo uno e quindi che io sia te e che tu sia me, immaginiamo che sia vero questo, immaginiamo che questo uno fosse all'origine fuori dal tempo, no? Fuori dallo spazio, l'uno, la singolarità, chiamano così il big bang gli astrofisici, no? L'uno e immaginiamo che questo uno per sua necessità di conoscenza, che per suo desiderio di conoscenza abbia deciso di dire, senti, io come faccio? E lo dice a se stesso, senti, perché non c'è l'altro, ok? Come faccio io a conoscere me stesso? Io ho bisogno di un altro e in quello stesso momento l'uno diventa due, si frammenta e per velocizzare questo processo la frammentazione avviene in infiniti, ok? Esseri, infinite possibilità, infinite esperienze. Noi quindi portiamo dentro noi stessi sostanzialmente un frammento dell'universo, cioè noi siamo universo, alcuni piace chiamarlo Dio ma io sono meno teologico di così, anche perché avendo fatto quasi sette anni, no otto anni a dire il vero, perché ho fatto l'allaro in giurisprudenza, poi ho fatto quella psicologia in Vaticano e ho fatto gli esami di teologia e posso dirvi che è meglio chiamarlo l'universo, ok? Quindi stare, diciamo, con i piedi per terra. Ed ecco qua che l'universo si autoconosce tramite noi, tramite che cosa? Tramite l'esperienza, no? Che cos'è l'esperienza? Uno dice, ho fatto questa esperienza, no? Ho avuto una brutta esperienza, voglio cambiare e fare le mie esperienze, no? Oppure mamma lasciami stare, devo fare esperienza. Chi è in quel momento che parla nel giovane? È l'anima che parla, è quel frammento dell'uno che è dentro di te e che sa che deve fare qualcosa. Il problema o la figata, decidete voi, la figata secondo me, però per alcuni può diventare un problema quando c'è una consapevolezza più bassa rispetto a quella che, diciamo, sarebbe quella ottimale per vivere una vita serena, è che noi non conosciamo le regole del gioco. L'uno ha creato questo gioco di sostanziale monopoli universale, lo chiamo io, di cui non conosciamo le regole. Quindi il maestro Gurdjieff, che è un grande esoterista del secolo scorso, più del secolo scorso, ormai il tempo passa anche per me, ok? Cosa diceva? Tu, come anima, i primi 30 anni della vita li occuperai a comprendere le regole del gioco. I secondi 30 anni della vita ti occuperai sostanzialmente di applicare le regole del gioco e gli ultimi 30 anni ti occuperai di dimenticare le regole del gioco. Quindi trascenderai le regole del gioco. Qual è questa regola del gioco? La regola del gioco è che noi arriviamo qui senza sapere le regole del gioco, senza sapere che siamo uno. E il gioco è proprio quello di rirendersi conto che siamo uno attraverso che cosa? Attraverso l'esperienza attraverso l'interazione con l'altro che in realtà non è altro e sono io stesso, specchio di me stesso, no? Quando io parlo a voi, io sto parlando a me stesso, io mi sto ricordando cose che in realtà servono a me per la mia evoluzione. Voi che cosa state creando? Voi state creando una masterclass, la state creando voi, non la sto creando io, ok? In cui c'è uno da non si sa dove che vi parla e che vi racconta delle cose che vi serve sentire in questo momento. Questo è il gioco universale, questi sono gli specchi che usiamo. E allora noi siamo proprio parte di questo uno. Siamo uno diviso infiniti. Però ormai è riconosciuto, diciamo, non è riconosciuto, è ipotizzato da molte università, questo lo rende quasi riconosciuto, la prima delle quali è stata l'università di Maastricht, la teoria dell'universo olografico, ok? Che cos'è questa teoria dell'universo olografico? Si sostiene che l'universo in realtà manchi di materia e che sia effettivamente un ologramma. Allora, se noi prendiamo la macchinina dell'ologramma, no? E ci mettiamo la nostra foto e proiettiamo il nostro ologramma, una delle sue qualità è che è tridimensionale. Eh ma va, anche noi siamo tridimensionali, pensa te. E un'altra qualità dell'ologramma è che se dividi il fascio di fotoni di luce di cui è composto, non avrai due mezzi ologrammi, avrai due ologrammi interi. E questo è molto interessante, perché se tu pensi che eri uno e invece adesso sei molti, ok? Vuol dire che tutti quei molti contengono l'uno. Ah, interessante. Ma la cosa ancora più interessante è che ogni pezzetto dell'ologramma che hai spezzettato dividendo il fascio di fotoni contiene le stesse informazioni dell'ologramma originale. Che cosa vuol dire questo? Che cosa vuol dire questo fatto di contenere tutte le informazioni dell'ologramma originale? Se ipoteticamente fosse vero tutto quello che ho detto fino adesso vuol dire che tu, al tuo interno, contieni tutte le informazioni dell'universo. Tu, te. E quindi ha anche poco senso sentirsi impotente rispetto a determinate situazioni. Ha anche poco senso sentirsi inferiore a qualcun altro. Ha anche poco senso dire dei sì che dovrebbero essere dei no. Ha anche poco senso ingoiare dei rospi che non devono essere ingoiati, anzi, se necessario rimandate al mittente e questo genererà evoluzione, no? Nella persona che li riceve indietro sicuramente. Non ha senso pensare che siamo belli, brutti, alti, grassi, medi, biondi, mori, bianchi, neri. Non ha molto senso, se ci pensate bene, in questa visione dare un giudizio di te stesso che sia inferiore a tutto quello che è dentro. Noi siamo anime venute qui a fare l'esperienza e a conoscerci. Molte persone pensano che l'evoluzione, anche molti filosofi, anche tanti guru, no? Un po' perché è molto vendibile la teoria, un po' perché è anche molto, diciamo, facile cadere in questo errore. Pensano che l'evoluzione sia aggiungere qualcosa, ok? Come se fossi in un videogioco. più vai avanti nei livelli, più hai, diciamo, l'armatura potente, più hai lo sguardo laser più forte, no? Come nei videogiochi. Cioè, il fungo di Super Mario è sempre più grande, diventi sempre più grande, no? Ma non è questo l'evoluzione. Che cos'è l'evoluzione? L'evoluzione è tornare alla tua origine, tornare a chi sei veramente. Ecco, ritrova te stesso, no? Trovare chi sei veramente. Trovato chi sei veramente, ti dà il valore giusto e non permetti più che succeda niente di tutto questo. Quando parliamo di Reconnective Healing, ok? Che è, diciamo, sostanzialmente la pratica di riequilibrio energetico di cui ci occupiamo con Emanuela e con tanti membri del team. Abbiamo un team di operatori di 120.000 unità, ok? In tutto, in tutto il mondo. Per cui non è una cosina, ecco, piccolina, né una cosina che è nata oggi, ma è nata trent'anni fa con il dottor Pearl che ha scoperto questo genere sostanzialmente di possibilità di ribilanciare la propria energia tramite che cosa? Tramite questa, queste frequenze possiamo dire di Reconnective Healing, lui l'ha chiamata così, potete chiamarla come volete dire il vero, ok? In cui l'effetto è sostanzialmente quello del tuo ritorno all'equilibrio. Come mai il ritorno all'equilibrio in inglese lo chiamano healing, che mal tradotto sarebbe guarigione? Innanzitutto il concetto di guarigione è un concetto molto più espanso in inglese e di ritorno proprio all'ordine invece che al disordine. Sostanzialmente noi, abbiamo parlato tanto di esperienza, no? Ma l'esperienza che cos'è? È quello spazio, ok? Proprio graficamente tra l'equilibrio, lo squilibrio e il ritorno all'equilibrio. Quando ci capita qualcosa e dall'equilibrio andiamo giù perché non ce la facciamo più, perché siamo stanchi, perché non ne possiamo più, perché siamo malati, perché abbiamo veramente, siamo incazzatissimi per varie ragioni, siamo umiliati, siamo tristi, ok? Lì, in questo punto, o ci rimaniamo e stiamo male, o iniziamo a conoscere una parte di noi stessi che non conoscevamo, estraiamo risorse da questo infinito potenziale che abbiamo da dentro di noi e ritorniamo all'equilibrio. Lo spazio tra lo squilibrio e l'equilibrio noi a volte lo chiamiamo guarigione, perché a volte si manifesta dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista energetico e diciamo, ah, adesso sono guarito. No, sei tornato in equilibrio. A volte succede l'opposto, cioè noi andiamo in esaltazione, ok? Perché comunque abbiamo dei limiti, dei limiti della tridimensionalità, dei limiti degli esseri umani. Io, ecco, se oggi mi facevo dieci chilometri sotto il sole, sotto il caldo di oggi, probabilmente non facevo sicuramente la masterclass stasera, ok? Quindi anche quando andiamo fuori dall'equilibrio dell'esaltazione, no? C'è qualcosa sempre che ci riporta indietro, no? Questo è molto chiaro. Io sono sicuro che ognuno di voi sia come, diciamo, evento bello, positivo e, diciamo, piacevole e ha avuto l'esperienza di poi essere tirato indietro da qualcosa o dai fatti, ok? Oppure, dall'altro lato, diciamo che quando eravamo a terra abbiamo trovato dentro di noi le risorse, a volte ci sorprendiamo, no? Di noi, e diciamo, ammazza, pensa a te, con fatica, ma ce l'ho fatta, sono riuscito a tornare su, ok? Cosa c'entra tutto questo con Reconnectivilling? Reconnectivilling è lo strumento che, riportandoti in equilibrio, accelera la tua esperienza. Accelerando la tua esperienza, ritorni sostanzialmente, di nuovo, in armonia, ok? Dobbiamo definire che cos'è un campo armonico. Un campo armonico è un campo le cui informazioni all'interno sono tutte le stesse. C'è la stessa informazione in ogni punto del campo, questo è un campo armonico, ok? Quindi quando il nostro campo è armonico, quindi tutte le nostre informazioni sono le stesse, ovvero sono quelle dell'universo, allora lì siamo in grado di attrarre in forma corretta, in forma facile e in forma pratica tutto ciò che ci serve per l'evoluzione, o meglio per conoscere sempre di più noi stessi, che, ripeto, non è aggiungere nozioni, ma è fare l'esperienza affinché, anzi, al contrario, molte sovrastrutture cadano, molte paure svaniscano da sé, molti problemi si risolvano automaticamente, perché, la dico grossa, noi siamo co-creatori della nostra vita, siamo co-creatori del nostro universo, per cui quando noi siamo in equilibrio riusciamo ad attrarre quello che è giusto per noi. So che molte persone a questo punto, nella vibrazione della paura, chiedono, ma se è giusto per me che mi cada un mattone in testa? No, perché? Perché una volta che siamo in equilibrio, noi attraiamo con facilità l'esperienza. La stessa, diciamo, parte di noi che non conosciamo e che vogliamo conoscere, si può manifestare in infiniti modi diversi. Credo che sia proprio l'ultimo, ok, dei modi farci cadere un mattone in testa, quando proprio alla manifestazione di tante possibilità di riconoscimento abbiamo sostanzialmente scartato tutte le più facili e ci è rimasto, ecco, veramente più che il mattone in testa darci la zappa sui piedi, di cui siamo campioni mondiali tutti noi. Io lo ero per primo e veramente è sempre stata la mia medaglia d'oro, ok? Per questo sono qui a parlarvi, per darvi l'informazione di qualcosa che è veramente utile, pratico, facile e molto profondo. Di Reconnective Healing sostanzialmente ne parliamo in centomila live che potete ascoltare in perlomeno sette lingue sul mio canale Guglielmo Poli su YouTube, potete andare ad ascoltarlo. Vi do un'infarinatura però perché mi rendo conto che a questo punto siamo arrivati al dunque, cioè che cos'è sta roba. È una pratica energetica di riequilibrio, come abbiamo detto, che il dottor Pearl ha sostanzialmente scoperto 30 anni fa a Los Angeles. Era un chiropratico, si accorse che esistevano delle correlazioni tra il suo, diciamo, muovere le mani in un determinato modo e le reazioni che avevano le persone prima ancora che fossero toccate. Sono state sostanzialmente documentate interessantissimi effetti di riequilibrio e di benessere nei suoi pazienti, essendo un chiropratico e chiropratico essendo un medico negli Stati Uniti possiamo chiamarli pazienti. E quindi da lì è cominciata sostanzialmente la sua ricerca, ha cominciato a ricercare. Tutti i guru, tutti i grandi esperti di energia dell'epoca però gli davano vari consigli, vari consigli che si manifestavano sempre nel dover aggiungere qualcosa, nel dover, diciamo, rafforzare il concetto di dualità e quindi gli dicevano proteggiti dall'energia degli altri se fai quello, perché l'energia degli altri ti farà male o potrebbe succederti qualcosa. E questo genera un senso di paura nell'operatore, piuttosto che proteggiti. Ma se tu sostanzialmente ti proteggi da qualcosa, è il momento stesso in cui tu stai creando qualcosa dal cui proteggerti. Quindi ancora una volta più dualità e più dualità non è molto olistico, nel senso greco del termine holos che vuol dire tutto, tutto questo. Gli dicevano usa, non so, oggetti, cristalli, piume di qualche arcangelo, tutte cose a cui quando lui aggiungeva questo genere, ecco, di orpelli nelle varie sessioni, diminuivano l'effetto delle sessioni. Come mai lo diminuivano? Lo diminuivano perché lui stava dando quello che era lui, il potere, a qualcosa di esterno. Noi quando diamo il potere che abbiamo dentro a qualcosa di esterno, possa essere un amuleto, possa essere un cristallo, possa essere il cornetto napoletano, no? Che ti porta la fortuna. Ma perché ti porta la fortuna il cornetto napoletano? Perché tu pensi che ti porti la fortuna. Allora vibri nella condizione, sei tu che vibri nella condizione della fortuna, la cornetto napoletana è un cornetto, no? E il cristallo è un cristallo, una piuma è una piuma. Vi ricordate Dumbo? Dumbo non volava senza la piuma che gli aveva dato l'amico topolino nella proboscide, è vero? Ma era una piuma magica per davvero quella del topolino o era appena stata staccata dal sedere di un corvo? Eh, forse non era neanche tanta pulita. Eppure lui, tenendola lì, ben stretta, lui pensava di poter volare e allora volava. Al contrario, cadeva giù e prendeva le mazzate dal direttore del circo, non so se ve lo ricordate. È molto educativo, Dumbo, la prima versione, non quella nuova orrenda che hanno fatto da poco. Ok, la versione cartone animato è quella dove c'è l'elefantino carino. Reconnective Healing ha una filosofia di libertà da tutto questo, diciamo, essere tecnica. Ha una filosofia di libertà da tutto quello che è, diciamo, il mondo della superstizione. Che gli italiani, spagnoli e latinoamericani siamo i campioni della superstizione. Tu vedi dei gesti anche per strada. Insomma, mio nonno era di Napoli, non dico niente di più. Ok, per cui era ben chiaro quello che succedeva, no? Noi non abbiamo bisogno di questo, no? Noi abbiamo bisogno di andare ad agire sull'energia nella forma più semplice, più pura, più chiara per cosa? Per attivare il potenziale di questa energia che ci dà riequilibrio. Stanford University e l'Università di Arizona hanno osservato i fenomeni che accadono durante le sessioni di Reconnective Healing e hanno detto, beh, interessante. Non possiamo certamente dire scientificamente che dà la guarigione, ma possiamo dire che fa tornare il campo in ordine, fa tornare il campo in armonia. E poi, chiaramente, a cascata, ce lo potete aggiungere voi quello che succede, no? A cascata, quando il campo è in armonia, tutto poi funziona meglio. Ed è molto interessante questo fatto che finalmente scienza e spiritualità ritornino, perché erano ben connesse già da tempo. Per Reconnective Healing si può eseguire in presenza, la sessione dura una trentina di minuti, a distanza, non c'è nessunissimo tipo di problema. E si può eseguire anche sugli animali, si può eseguire sulle piante, si può eseguire, diciamo, su tutto ciò che noi riteniamo vivo, ok? Tutto ciò che fa l'esperienza qui, tutto ciò che è senziente, no? E quindi tutto ciò che può avere l'esperienza e riportarla all'uno. Questo è quello che succede con Reconnective Healing. Non è una canalizzazione, assolutamente, quindi non è come il Reiki, dove si introietta dentro il tuo sistema da una fonte, dipende da vari tipi di Reiki, adesso purtroppo ce ne sono tanti, si è perso un po' il Reiki originario. In ogni caso si recupera l'energia da una fonte, si introietta nel tuo sistema e poi si proietta alla persona che riceve o in autosessione. Non è neanche uguale alla pranoterapia o pranopratica, in cui è l'energia duale dell'operatore, cioè proprio la tua energia che trasferisce la persona. Quindi che cos'è Reconnective Healing? È un'osservazione consapevole del campo. Quando voi vedete l'operatore di Reconnective Healing nei vari video che ci sono in giro eseguire questo e osservare e sentire, provate a sentire, no? Questa frequenza, questa vibrazione, a quel punto noi stiamo sentendo, noi stiamo osservando, noi stiamo vivendo l'energia. Non la stiamo proiettando dalle mani, ma è come se le mani fossero due grandi occhi, due grandi orecchie, come se fossero, ecco, un organo di input, non di output. Non siamo, ecco, come Iron Man che spara l'energia dalle mani, come negli Avengers. Noi siamo qualcosa di diverso. Noi siamo osservatori. L'osservazione consapevole del campo permette, come hanno detto le istituzioni universitarie, di generare un campo di entropia negativa, ovvero l'entropia è quella, diciamo, legge universale per cui, secondo alcuni, tutto dall'ordine degrada al caos, ebbene, Reconnective Healing dal caos fa tornare il tuo ordine. Quale ordine? Il tuo personale. Lì, in quella posizione, uno dei vari benefici è riconoscere te stesso, ridarti la consapevolezza di chi sei e da lì scegli la tua vita, come deve andare avanti, lì scegli quelle che sono le persone da frequentare e quelle che non sono da frequentare, quelle che sono le attività da fare e da non fare, addirittura cosa mangiare e cosa non mangiare, cosa, diciamo, che lavoro fare. Io pure facevo l'avvocato. Adesso mi vedete qui a parlare di questo. Si vede che su di me ha avuto un impatto veramente potente. No? Ci sarebbe tanto da dire, tantissimo da dire. Emanuela, cosa mi sono dimenticato in maniera decisiva? Sicuramente mi sono dimenticato di invitarli ai corsi di Bologna, quello è il tuo compito. Allora, il 14 e il 15 settembre a Bologna terremo, Guglielmo e ci sarò anch'io, il corso di Reconnective Healing. Sono due giorni in cui con tanta pratica, con tanta allegria, con tanta profondità, verrete tutti messi in condizioni di eseguire una sessione professionale di Reconnective Healing. Saranno due giorni molto intensi in cui ci divertiremo. Diremo delle tante cose, sono molto belle, molto intense, molto profonde, ma lo faremo sempre in modo giocoso perché noi riteniamo che le cose serie, le cose importanti non debbano essere necessariamente noiose, essere seriose e staremo bene e impareremo veramente a gestire questa bellissima frequenza, imparare ad usarle per noi stessi e per gli altri. Alla fine del corso, di questo corso, diventerete, se vorrete, operatori certificati di Reconnective Healing. Quindi praticamente potrete eseguire professionalmente le sessioni ai vostri clienti. Verranno date anche alcune informazioni sul come naturalmente inizialmente approcciarvi a questa nuova professione e poi comunque saremo sempre con voi, sempre a vostro fianco per cercare di sostenervi, di darvi l'aiuto, il maggior aiuto possibile. Volevamo creare anche in Italia una bellissima comunità. Noi ne abbiamo tante ed importanti in tutto il mondo. In Italia, stranamente, che è il posto dove noi siamo, abbiamo bisogno di maggiore supporto da tutti voi e per scambiarci, per vivere insieme in questa bellissima dimensione che sono le frequenze di Reconnective Healing. I secondi due giorni, invece, e quindi il 16 e il 17 di settembre, ci sarà il corso in cui verrà insegnata la riconnessione. La riconnessione è la seconda sessione che si può fare con le stesse frequenze della Reconnective Healing. Concettualmente è un po' diversa, anzi direi completamente diversa, perché se diciamo che la Reconnective Healing agisce nel microcosmo, cioè ribilancia la nostra energia interna, la riconnessione addirittura ci ricollega a quella che è la griglia dell'energia universale. Attraverso una procedura, una sequenza di punti e linee che l'operatore dovrà andare a identificare e a, diciamo, io dico colpire, comunque non è il... e questa sequenza di punti e linee fare in modo che la nostra energia interna, le nostre linee asiatonali si possano ricollegare con le linee della Terra e che naturalmente sono collegate, come ben sappiamo, al sistema dell'energia universale. Che cosa vuol dire questo in parole povere? Se noi immaginiamo che l'universo sia un puzzle, noi naturalmente siamo una tesserina, una tesserina che molto spesso è incastrata in un posto dove non dovrebbe proprio essere, non dovrebbe essere. Quindi molto spesso, come quando noi eravamo piccoli, cerchiamo di farla stare spingendola un pochino giù. È un posticino che ci assomiglia ma che non è esattamente quello che siamo noi. La Reconnectivili che cosa fa? Prende, ci prende da questa posizione che ci assomiglia e ci porta in quella che noi siamo veramente. A questo punto che cosa succede? Allora sì, veramente ritorniamo. Quello che siamo, quello che l'universo aveva immaginato per noi, che noi dovessimo essere nel momento in cui siamo venuti su questo mondo. Ed è una pratica potente, è una pratica fondamentale, che è una scelta, una scelta di vita, perché veramente può portare a dei cambiamenti molto importanti. Ecco. Dimmi. Mi sembra... Eh? Ecco, continua. Che cazzo hai? Ti sei emozionata? Allora sì. No, non mi sei emozionata, stavo ricordando la mia riconnessione. Sì, forse un po' mi sono emozionata, devo dire la verità, perché la riconnessione per me è stato un momento che veramente mi ha fatto, mi ha fatto cambiare completamente e mi ha fatto tornare veramente quella che ero. E ogni volta che la rivivo, che parlo di... e me la ricordo, la ricordo con tanta gioia, con tanta emozione e... Allora raccontacela. Ve la racconto? Brevemente. Beh, brevemente, sì, l'ho detto prima. Io sono un avvocato, sono naturalmente ancora iscritta all'Ordine di Roma, quindi non è che ho completamente rinnegato la mia vita, la mia vita passata. In realtà poi, a un certo punto della mia vita, che non vi sto a raccontare, si sono successe delle cose molto serie, molto importanti e molto faticose e dolorose, devo dire la verità, che mi hanno portato in una situazione veramente di confusione. Ed ecco qui che è entrata nella mia vita, la Reconnective Healing, prima, che mi ha aiutato a superare questo momento di impasse, di portando nel mio corretto equilibrio e quindi mi ha portato a fare scelte per poter risolvere questa situazione piuttosto drammatica. Dopodiché ho deciso di fare anche la riconnessione. La riconnessione l'ho fatta con un po' più di scetticismo, devo dire la verità, perché era difficile per me immaginare che una cosa così potesse realmente cambiare la mia vita. L'ho fatta per un motivo fondamentale, perché io a un certo punto della mia carriera, dopo 25-26 anni, mi sono resa conto che non sentivo più il piacere, la voglia di fare l'avvocato. Cioè non mi riconoscevo più in quello che ero stata ed ero fino a quel momento e sentivo un fastidio quasi tutte le volte che entravo in un tribunale e per questo cercavo, siccome sono anziana, cercavo di andare in Cassazione, in Consiglio di Stato, dove l'ambiente è molto bello e molto ovattato e molto... per vedere se lì mi trovavo meglio, ma non funzionava. Che cosa era successo? Mi ero finalmente resa conto che io come avvocato ero solamente uno strumento che serviva al sistema perché il processo potesse avere luogo. non si può fare un processo senza avvocato, però la mia figura, la figura dell'avvocato e non vi svelo niente di strano, quindi non prendetela con i vostri avvocati, è solamente strumentale perché poi alla fine l'avvocato può essere il più bravo del mondo, può essere il più preparato, può avere fatto lo studio più approfondito, ma alla fine decide il giudice e questo mi creava un grande stato di frustrazione e non riuscivo più a stare veramente nella mia professione come ce l'ho stata fino a quel momento. Bene, facciamo la riconnessione. Così ci ho provato. Beh, il risultato è stata una cosa incredibile, incredibile per me prima di tutto, perché mi sono posta appunto come dicevo con scetticismo, poi io sono una persona molto razionale e quindi tutto quello che non riuscivo a regolare, a controllare, non poteva esistere naturalmente. Quindi è stata una sfida, devo dire la verità. Che cosa è successo? È successo che io veramente sono tornata ad essere quella che mi sentivo di essere in quel momento e quindi piano piano, senza sforzi, senza traumi, senza strappi, io sono riuscita a innanzitutto a diminuire la mia clientela, dopodiché pian pianino c'è stato un periodo che ho chiuso lo studio, ho chiuso davvero. E tutto questo è successo, come vi dicevo, senza il minimo sforzo e senza il minimo giudizio anche dalla parte degli altri, perché potete immaginare, mio figlio, mio figlio no, ma mio marito, le persone che stavano intorno a me, nessuno ha avuto la forza o il coraggio di dirmi ma che cosa stai facendo? Perché? Perché ero talmente decisa, talmente nel mio potere diciamo, che andavo avanti lentamente, lentamente, ma inesorabilmente, come un diesel, sì, come un diesel, non è che è successo tutto da un momento all'altro, ma alla fine sono riuscita a fare quello che io mi ero prefissa e guadagno molto meno, sì, molto, molto, molto meno, però sono molto più felice, sono molto più serena, sono molto più contenta e quindi sono, posso dire, ritornate a casa ed eccomi qui, io sono a casa, non vi nego che se c'è qualche pratica che mi interessa, ma la devo sentire, non è, non è un'esigenza, non è più il mio lavoro, devo sentire che c'è qualcosa che mi va e che mi piace fare, lo faccio ancora. Questa è la riconnessione per me, questo è stato un regalo straordinario, stupendo, cui invito veramente tutti a provarla, se ne avete il coraggio. Io aprirei questi ultimi minuti se c'è qualche domanda, se volete scriverla nella chat o se volete farla direttamente dal microfono, perché è importante, dopo che abbiamo parlato quasi un'ora, ecco, capire anche tutti i dubbi che si possono avere certamente. Com'è possibile contattarti, Guglielmo? Come dici? Com'è possibile contattarti? Mi puoi contattare su WhatsApp, al numero che ti scrivo qui, che è più 393401784206. Un istante prendo un persetto, ah eccolo. Te l'ho messo nella chat. Se me lo lascio un attimo, sì. Sì, 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 rimane lì fino alla fine. Oppure via email a guglielmochiocciolareconnectivacademy.com Vi consiglio di fare un saltino sul sito di Reconnectivacademy.com anche per vedere la parte della scienza. Ecco, me lo rimetti per favore? Sì, è lì. Scomparso, no, non lo vedo più. Aspetta, te lo rimetto, se no te lo ridico. Sì, 3401784206. Comunque adesso te lo rimetto qui nelle... Eccolo là. Certamente mi potete contattare personalmente per delle sessioni in presenza o distanza, mi potete contattare per avere più informazioni in generale su Reconnectiv Healing, i corsi che ci saranno a Bologna. Riceverete, per aver partecipato a questa conferenza, questa masterclass, una email in cui ci sarà la registrazione. Se vi è piaciuta, fatela girare. Anche perché come tutte queste pratiche, i gentili amici dei padroni dei social ci mettono in banning o in shadow banning, che vuol dire che noi postiamo le cose ma voi non le vedete. E quindi abbiamo tre like che sono miei di mia madre e mio fratello, siamo sempre quelli. Ma questo non perché non siamo capaci, o non siamo bravi, o non sappiamo fare il marketing come fanno tanti altri, al contrario perché proprio sui social le cose per stare bene è difficile che ormai che te le dicano apertamente. Diciamo che dopo la pandemia, durante la pandemia c'è stata una chiusura e dopo è rimasta lì. Come quando prima dell'11 settembre potevamo portarci la nostra bottiglietta di acqua naturale in aereo e invece adesso non ce la possiamo più portare. In compenso te la vendono subito dopo i controlli a 8 dollari. Tanto per... mi è capitato personalmente. Ok, quindi io non ho bevuto l'acqua di 8 dollari onestamente. sono andato a prendermi quella del rubinettino. Chiede Giovanna se faremo di noi corsi a Chiasso nella Svizzera italiana. E forse sì. Diciamo che adesso ci stiamo concentrando soprattutto su Bologna e quindi siamo focalizzati lì, però probabilmente li rifaremo. Prima o poi sicuramente anche a Chiasso, forse anche a Lugano nella Svizzera italiana. Vi dicevo andatevi a dare un'occhiata al web di ReconnectiveAcademy.com c'è la parte della scienza e poi c'è la parte di tutti gli eventi e vedete la quantità di eventi che produciamo. Abbiamo anche appena... sono contento di aver appena pubblicato Istanbul poi pubblicheremo Dubai, ce ne sono vari negli Stati Uniti, in tutta Europa e in varie lingue. Per cui questo è il nostro lavoro continuo di divulgazione e di ritorno a chi siamo veramente e dandoci il giusto valore. Qualche domanda tecnica? Invece qualcosa che non avete compreso o che volete comprendere meglio? Niente. Allora si vede che Emanuela... Mamma mia, una cosa straordinaria. Allora, io vi ringrazio di cuore e vi reitero il preghiera di far girare questa call se ne avete voglia se vi è piaciuta, se vi è interessato, se i concetti di libertà e di evoluzione che esprimiamo abbiano, ecco, toccato la vostra anima. Puoi parlare un attimo del campo? Sì, in realtà il campo, proprio così come tale, è l'oggetto, ed è una sincronicità abbastanza interessante, della prossima Masterclass che faremo in agosto e di cui voi riceverete l'invito. Per cui non so proprio se parlarne adesso oppure no. Vi lascio con un attimo di suspense e parleremo del campo e sostanzialmente di quella che è la nostra relazione col campo. Perché se oggi abbiamo parlato di consapevolezza di coscienza che è Reconnective Healing, se avete ascoltato bene le parole di Emanuele la prossima volta parleremo di The Reconnection che è proprio la riconnessione al campo. Per cui, secondo me, vi lascio con un attimo di suspense, così la prossima volta ci rivediamo e parliamo del campo, della riconnessione con il campo, del concetto di campo armonico che abbiamo toccato, ecco, neanche toccato, abbiamo sfiorato durante questa masterclass e parleremo appunto di come e qui te lo spoiler un po' se vuoi un punto del campo può cambiare tutto il campo. E qui io vi lascio. Vi ringrazio di cuore, vi abbraccio tutti, ci vediamo non mi ricordo ad agosto quando, perché faccio una serie di call in tutte le lingue infinite, in ogni caso riceverete l'email, quindi non fate unsubscribe, rimanete nella newsletter, così riceverete tutte le informazioni e ci vediamo i primi di agosto, qualcosa del genere. Un abbraccio a tutti, scusate, ma non mi ricordo la data della masterclass di agosto. Vi saluto anch'io con Ciao Manuela. Ciao. Se avete domande, soprattutto volete informazioni sui corsi, chiamate me, scrivetemi a emanuela.reconnectiveacademy.com e vi parlerò, vi dirò tutto, risponderò a tutte le vostre domande con piacere e niente, spero di vedervi numerosi poi a Bologna, così diamo dei volti a questi nomi che sono comparsi qui in questo schermo e niente, sono a vostra disposizione, vi aspetto veramente tanti, numerosi e con tanto, tanto piacere. Buona serata a tutti e da voi il giusto valore grazie. Voi siete l'universo. Buona serata e spero che da voi non faccia così caldo. Ciao. Ciao, grazie, grazie, ciao.